Buonasera e benvenuti, parliamo di futuro di innovazione di startup, insomma delle aziende, dell'economia dell'Umbria che verrà e lo facciamo in occasione del lancio del bando smart app dedicato dalla regione Umbria proprio alle startup. Con me in studio ci sono due ospiti con cui parleremo proprio dell'ecosistema delle startup, delle difficoltà e anche delle opportunità che le aziende hanno proprio in occasione del lancio del bando smart app che sarà online direttamente fruibile da domani insieme a un nuovo sito dedicato proprio alle aziende e all'idea del futuro. Vedete con me due ospiti, l'assessore Michele Fioroni, assessore della regione Umbria allo sviluppo economico, all'innovazione digitale e alla semplificazione e Riccardo Fontanelli del consiglio di gestione, fondazione ricerca e imprenditorialità. Benvenuti ad entrambi e ora diamo la parola alla presidente della regione Umbria, Donatella Tesei. Il momento che stiamo vivendo è effettivamente un momento molto importante in cui come regione vogliamo dare un segnale ai giovani imprenditori e a chi come noi crede che l'innovazione sia uno degli strumenti fondamentali per far ripartire il territorio. Insieme all'assessore Fioroni abbiamo proprio pensato a dei bandi su misura proprio per le start-up, un bando che però andava a supportare progetti ambiziosi e soprattutto a contribuire a diffondere la cultura dell'innovazione. L'emergenza che abbiamo vissuto e che ancora dalla quale insomma stiamo in qualche modo uscendo non ci ha fatto di perdere di vista un obiettivo fondamentale per la ripresa economica della nostra regione e per lo sviluppo in genere. L'Umbria oggi ha tutte le caratteristiche per essere attrattiva, per essere un luogo dove si sperimentino distretti tecnologici e distretti legati alle competenze in cui si possano creare presupposti per garantire una maggiore scalabilità anche alle imprese. Questa sicuramente non è un lavoro semplice, non è una missione facile, però sicuramente non impossibile e dobbiamo crederci tutti. Noi come regione sicuramente ci crediamo e staremo al fianco anche di giovani, di donne e di tutti coloro che vorranno sperimentare, proporre idee innovative, portarle avanti, creare impresa e questi bandi proprio sono mirati non soltanto al finanziamento fino a se stesso ma proprio ad accompagnare questo percorso indirizzato specialmente ai giovani e indirizzato specialmente alle donne. Ecco io credo che questo sia un momento straordinario di difficoltà sicuramente evidenti ma che può far ripartire questa nostra regione e da questo punto di vista noi come regione vogliamo proprio supportare e indirizzare anche questo progetto. Quindi oltre alle start up naturalmente innovative un'ulteriore misura è stata recentemente pubblicata per la creazione di imprese e per l'autoimpiego anche in quel caso prevedendo non solo un finanziamento ma delle attività mirate proprio ad accompagnare in questo percorso anche chi per la prima volta si trova ad intraprendere il percorso proprio dell'imprenditore. Io credo che ci possano essere tutte le condizioni, è un momento in cui dobbiamo avere il coraggio delle nostre scelte ma dobbiamo guardare al futuro anche con un certo ottimismo. È un percorso che possiamo portare avanti insieme e insieme a questi bandi sicuramente puntati all'innovazione, alle start up e a tutto ciò che fa crescere da questo punto di vista, la regione ne sta anche programmando degli altri sempre a sostegno del mondo dell'impresa. E dunque la presidente della regione parlava proprio di coraggio, Assessore Fioroni, insomma lei un po' di coraggio l'ha avuto da giovane perché ora è un assessore, un politico però insomma è stato un giovane start up. Assolutamente, in un'emboca non sospetta, quando l'economia digitale veniva chiamata la new economy che quindi aveva ancora i contorni piuttosto sfumati, noi inventammo una cosa che si chiamava Marilyn, parlavamo con questo oggetto dicendo di Marilyn accendi la luce, Marilyn accendi il riscaldamento, ne più o ne meno quello che fa Alexa oggi. Ancora le case non erano cablate in fibra, però c'era la rete tecnologica del rame che ci consentiva di poter svolgere una funzione di attuazione on off e avevamo anche avuto l'intuizione di avere come interlocutore le telco che erano quelle le compagnie che poi ipotizzavamo nel loro modello di business avrebbero dovuto erogare servizi a valore aggiunto ai propri utenti. Insomma il prodotto oggi sembrerebbe innovativo, però in quell'epoca i tempi non erano maturi, mancavano alcuni fattori abilitanti, ci è mancato se vogliamo anche un po' l'accompagnamento verso il mercato, ci siamo trovati a improvvisarci per quanto avessimo un background economico nella elaborazione di un business plan, nella necessità di dover interleguire con il mondo di un venture capital italiano che ancora non era maturo e forse non lo è neancora oggi, però abbiamo capito quali fossero le nostre mancanze e un po' quasi per missione io ho portato questa mia esperienza in politica occupandomi sempre con passione degli ecosistemi dell'innovazione da start-up perché non ce l'ha fatta augurandomi che in futuro in molti possano avere il coraggio di provarci perché il fallimento per me non è stato un elemento che mi ha fatto arrendere, ho cercato comunque di perseguire altre strade nella vita, non più imprenditoriali, c'era l'insegnamento, sono stato per tanti anni docenti di marketing, però è stato un percorso di crescita personale e imprenditoriale, ecco noi vogliamo cercare di invitare i nostri giovani a crederci, ripeto a volte si può avere l'intuizione giusta nel momento sbagliato oppure nel mercato sbagliato, questo bando nasce cercando proprio di aiutare i giovani, i nuovi imprenditori che non necessariamente devono essere giovani ad avere tutti quegli strumenti per poter ristradare la propria dell'impresa nel migliore dei modi per poter capire qual è il confine di mercato perché spesso l'innovazione nasce in un mercato ma poi può trovare un ambito di applicazione che il neoprenditore non sa nemmeno che possa esistere nel far bisogno di innovazione di altri mercati e di altre aziende. E' proprio molto interessante quello che diceva, proprio dal punto di vista del trasportare proprio in politica un po' della sua esperienza, lei dice anche spesso che proprio bisogna creare un terreno fertile per l'innovazione e soprattutto per rendere appunto anche la regione Umbria, l'Umbria competitiva. Assolutamente, l'innovazione ha bisogno di percorsi di semina, di infrastrutture immateriali perché l'innovazione non nasce da caso, l'innovazione ha bisogno di ecosistemi in cui ogni attore faccia la sua parte, ha bisogno delle realtà più stratturate che possano magari rappresentare il fabbisogno di domande di innovazione, ha bisogno del sistema della ricerca, ha bisogno di meccanismi del trasferimento tecnologico, ha bisogno di luoghi e comunità in cui spesso sia possibile scovare i talenti, aiutare le idee a crescere, è un lento percorso di semina, io dico sempre che la Silicon Valley non è nata a caso, è stato come la realtà di Seattle, cito sempre un caso molto divertente, nel caso di Seattle che è forse oggi la comunità tecnologica più rilevante al mondo, un ruolo fondamentale lo hanno avuto i caffè, è la città in cui è anche nato Starbucks, i caffè in una città in cui c'erano laboratori di ricerca e soprattutto università tecnologicamente avanzate, hanno rappresentato un luogo di contaminazione delle idee fra soggetti provenienti da mondi diversi e spesso l'innovazione nasce proprio dal confronto fra esperienze e modelli culturali profondamente diversi. E allora proprio parlando di innovazione ma anche di accompagnamento delle aziende vorrei coinvolgere nella nostra discussione Riccardo Fontanelli della Fondazione Ricerca e Imprenditorialità che è una fondazione che in questi mesi ha supportato molto la regione proprio in questo progetto specifico, tra l'altro poi tra pochissimo vedremo, impareremo anche a conoscere le start up umbre e anche chi ce l'ha fatta lavorando in altri settori, quindi approfondiremo la nostra chiacchierata. Io le volevo chiedere appunto perché il tasso di mortalità delle start up è così alto, cioè che cosa si sbaglia? Diciamo è abbastanza chiaro a livello internazionale dove siano i problemi, dove risiedono i problemi, sull'aspetto invece delle soluzioni non è poi così semplice. Supponiamo di prendere in esame la start up e quindi successivamente alla costituzione ai primi anni di vita, il principale motivo del fallimento è noto e gli americani hanno attribuito a questa motivazione un brand che chiamano Valle della Morte. La Valle della Morte è sostanzialmente il momento in cui la start up si rende conto che lo sviluppo della tecnologia non porta a una ricaduta sul mercato perché si sono sbagliati una serie di passaggi, non si sono compresi a pieno i problemi della utenza o dei clienti, si è sviluppato all'interno del laboratorio, non ci si è confrontati con progressione e intelligenza con coloro che poi andranno a utilizzare i nostri prodotti o a acquisire, acquistare i nostri prodotti. Il 95% di quelli che noi investitori chiamiamo write off, ovvero gli abbandoni degli investimenti, il 95% a livello globale è dovuto a problemi relativi al prodotto, quindi tecnologici oppure sostanzialmente di non accettabilità del prodotto da parte del mercato. Quindi questo è il motivo principale riconosciuto da tutti sul tema del perché le start up hanno difficoltà. Sulle soluzioni qui invece dobbiamo interrogarci, il percorso che accompagna un'invenzione verso il mercato è un percorso non lineare e quindi non è automatico trovare la soluzione, un'invenzione in quanto tale deve poi successivamente essere consolidata da un punto di vista tecnologico, quindi deve essere fattibile, deve indirizzare dei problemi, delle aspettative, dei bisogni e in ultimo molto importante deve produrre crescita, crescita economica, occupazionale e quant'altro. Questa è invenzione che si trasforma in innovazione, un percorso complicatissimo che noi con Regione Umbria abbiamo cercato di affrontare anche attraverso lo studio, la progettazione di questo nuovo bando. Infatti parleremo poi dopo anche di accompagnamento, come diceva prima, delle start up. C'è qualche esempio di start up che che le viene in mente, che aveva progetti interessantissimi ma che appunto ha fatto quegli errori banali o comunque evitabili? Gli esempi sono moltissimi anche del mio passato, quello che è più evidente è una start up, questo che io ho al polso è uno smart watch. Lo smart watch non è nato in Silicon Valley, lo smart watch è nato in Italia, in particolare in Veneto. Il primo esempio di smart watch è stato ideato da una start up veneta, dei ragazzi brillanti che hanno intuito per tempo quello che era un bisogno nascosto di tutti noi, in particolare questo è uno sport watch, però loro si erano immaginati un utilizzo più estensivo. Circa otto anni fa sono riusciti addirittura a condurre campagne marketing importanti e hanno portato a ordini, nell'ordine di migliaia di unità di questo orologio ancora prima di averlo realizzato. Sono entrati in contatto con una delle nostre start up che noi avevamo in incubazione per chiedere loro di realizzare questo orologio e l'orologio pian piano è venuto fuori. Qual è il problema? Il problema è che è mancato da parte di queste due start up, come dicevo prima, il confronto con il mercato. L'una aveva capacità di marketing importantissima ma non commerciale, non c'era un confronto con l'utente finale. L'altra aveva capacità tecnologiche, addirittura avanzava lo sviluppo tecnologico rispetto ai concorrenti, ma nessuna delle due si è posta al problema di coinvolgere nel loop l'utente finale. La requisitazione cambiava con cadenza settimanale e addirittura giornaliera, quando poi si è arrivati a bruciare un investimento nell'ordine di diversi milioni di euro, quindi i due gruppi hanno iniziato, e questo è il secondo problema, a litigare fra loro. Questa è la seconda causa di mortalità delle start up. Quando arriviamo a capire che il prodotto non è proprio conforme a quelle che sono le aspettative del mercato, allora entra una situazione di panico, comincia a finire la finanza e il team iniziano a discutere, a litigare. Da parte dell'investitore questo è un problema. Certo, anche fondamentale, lo vedremo tra pochissimo, proprio la scelta del team e dei partner con cui avere a che fare. Parlavamo delle esperienze dirette, vi volevo far vedere un video molto interessante di Alessandro Piccioni, che è Strategy Business Development Director di Nexi, è un perugino, ha conseguito l'MBA all'MIT di Boston, insomma un lungo percorso come consulenza e poi appunto nelle aziende. Guardiamo insieme questo video. Beh, la buona notizia è che non c'è mai stato un momento migliore per iniziare a essere un imprenditore. Il costo del debito è molto basso, il capitale è presente in abbondanza. quello che veramente è importante è avere gli step giusti per iniziare. Gli step giusti per iniziare devono essere locali. Possono essere locali in base a capitale privato, quindi angel investors, piccoli acceleratori, incubatori, ma può essere anche importante il ruolo delle istituzioni pubbliche. E proprio il ruolo delle istituzioni pubbliche a livello locale ha permesso a molti hub internazionali della tecnologia, ad esempio come Berlino, Barcellona, Londra stessa, di potersi sviluppare in maniera importante negli ultimi anni. Le start-up italiane solitamente si concentrano su settori o ventures che hanno poca crescita o poche barriere all'ingresso. Perché poca crescita? Perché sono le cose che in Italia magari sono più sviluppate, il food and beverage, l'hospitality, eccetera. Ma in realtà il mondo sta crescendo su altre direttrici, quindi è importante la crescita. Hanno poche barriere all'entrata perché molto spesso non si tratta di high-tech ideas o high-tech ventures, ma si tratta di remaking di business model un pochino vecchi. Ma il remaking di business model vecchi è molto semplice da copiare e quindi la start-up rimane in una competizione, in un contesto competitivo importante e molto sfidante. Quindi è molto importante scegliere i settori giusti, è molto importante scegliere anche le cose giuste da fare. Il secondo consiglio che mi sento di dare riguarda il team. Il team è un aspetto fondamentale della parte subito successiva a quella di Family and Friends and Seed. Perché il team permette di fare o meno l'execution. Nella mia esperienza dico sempre che funziona molto bene un gruppo di founders in cui c'è la persona che ha portato l'idea, che ha la passione, che ha la visione, che ha veramente l'istinto e allo stesso tempo qualcun altro che ha già fatto e magari ha fallito due, una, due, tre, quattro volte una start-up. Perché quella persona sarà la persona in grado di portare la propria esperienza e determinare un'execution migliore di quella che sarebbe stata, ripetendo gli errori che tutti ovviamente fanno perché i buyers umani sono solitamente gli stessi. Il terzo consiglio è quello di non abbattersi. Nella cultura italiana e nella cultura anche tedesca, un pochino in quella dell'Europa continentale, c'è un pochino questo atteggiamento molto negativo di fronte al fallimento delle iniziative imprenditoriali. Il fallito, tra virgolette. Il fallimento è parte integrante della grande cultura imprenditoriale della Silicon Valley. Il fallimento è considerato una condizio sine qua non per avere successo ad un certo punto della vita per un imprenditore. Quindi è molto importante che una persona che abbia provato una, due, tre volte e non sia riuscita non si perda d'animo e riporti lo stesso entusiasmo con più esperienza e con maggiore managerialità nelle ventures successive perché il successo passa attraverso le cadute. Questo è un luogo comune che sentiamo spesso dire nello sport, ma è quanto di più vero nell'ambiente delle start-up perché proprio l'execution è quella che fa la differenza tra qualcosa che funziona e cresce e diventa una vera corporate e quello che invece non riesce a diventarlo. Alessandro Piccioni di Nexi ci ha portato e ha approfondito un tema di cui avevamo già parlato con Riccardo Fontanelli. La cosa che mi ha interessato molto di questo video è proprio il voler sottolineare. Intanto, dice Piccioni, bisogna mettere insieme chi ha l'idea, quindi il giovane brillante, il giovane creativo e anche chi ha fallito. Questo concetto del fallimento che comunque è utile a chi invece ha questa idea innovativa e non sa bene come realizzarla. Assessore Fioroni. Sì, assolutamente, perché comunque fare innovazione di fatto richiede il passaggio attraverso un sistema di apprendimento collettivo. Non c'è l'idea solo che guida il percorso dell'innovazione, ma c'è un sapere congiunto che accompagna l'idea, che è fatto di esperienze più strutturate, di esperienze meno strutturate, di chi ha fallito, perché chi ha fallito magari si è già trovato a dover cercare dei clienti, a dover testare la sua attività, a dover interloquire con un operatore finanziario. C'è stato quel giorno maledetto in cui la demo non ha funzionato e quindi tutto è andato all'area. Allora, nella diversità dei contributi, delle esperienze di vita, ma anche mettere insieme aziende strutturate con aziende meno strutturate, si genera questo apprendimento collettivo, che è un moltiplicatore potentissimo, perché se gli ecosistemi sono solidi e le infrastrutture, anche i materiali a supporto di questo percorso, sono forti e è quello che cercheremo di fare noi con il bando Smart Up, questo apprendimento collettivo si traduce in sviluppo e quindi serve anche la cultura del fallimento, perché la cultura del fallimento è forse la più grande fonte di apprendimento per l'imprenditore. In Italia purtroppo questa cultura non l'abbiamo, negli Stati Uniti vengono invitati a fallire ripetutamente, perché da fallimenti ripetuti sono nate tantissime grandi aziende, potremmo citarne da Apple in giù tantissime, ma è anche da momenti di caduta, perché? Perché comunque questo porta a ripensarsi, a rimettere in discussione la propria idea, soprattutto a non vivere in maniera un po' talebana la propria innovazione, come soprattutto in una prima esperienza spesso si fa, quindi tutto ciò che è intoccabile, invece chi ha fallito spesso ricorda agli altri quanto sia importante magari essere un pochino più flessibili, meno integralisti e cercare sempre di cogliere una prospettiva diversa. Sì, perché poi alla fine lo start-upper, lo vedremo, è un sognatore, è un innovatore, guarda al futuro, insomma, ci crede in qualche modo, insomma, deve credere, deve affrontare anche con ottimismo, come diceva Piccioni prima, il fallimento. Io ora vi vorrei far vedere invece un'azienda che sta andando avanti, che cresce e che è molto interessante, si chiama Luna Geber. Guardiamo insieme questo video. Sono Gian Maria Bernacchia, socio di Luna Geber Engineering SRL, fondata a gennaio 2019 insieme ai miei colleghi, Natascia Carlini, Fabio Gelati e il professore Luca Roselli. Luna Geber è una start-up innovativa, spin-off del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'Università di Perugia. Luna Geber si occupa dello sviluppo di sistemi di monitoraggio per l'IoT, quindi per l'Internet delle cose, sistemi di monitoraggio per l'industria 4.0. Luna Geber vuole collaborare con tutte quelle realtà che intendono investire nell'innovazione all'interno della propria azienda. Quando parlo di innovazione intendo sia innovazione di processo, sia innovazione del prodotto. Grazie ai nostri sistemi cerchiamo quindi di rendere intelligente quello che fino a ieri non lo era. Passiamo ad alcuni esempi di alcuni sistemi che abbiamo sviluppato sempre per aziende in questi due anni e mezzo di vita. Abbiamo sviluppato un robot che è in grado di avvolgere i pallet in maniera autonoma. Quindi siamo andati su questa azienda, abbiamo preso un semplice macchinario che avvolgeva il pallet in maniera manuale e lo abbiamo reso intelligente. Come? Grazie a due sistemi. Da una parte abbiamo brevettato un sistema in grado di ricostruire l'ambiente 3D circostante e dall'altra lo abbiamo reso in grado di guidare autonomamente. L'unione di questi due sistemi ha gemmato questo prodotto di robot impacchettatore di pallet in maniera autonoma. Un altro dispositivo ad esempio è lo stetoscopio industriale. Lo stetoscopio è un dispositivo che in ambito industriale se applicato ad hoc su un macchinario riesce a dirci in tempo reale se quel macchinario ha dei malfunzionamenti. Questo grazie a particolari algoritmi. Spaziando in tutti gli altri campi, passando a allevamenti di precisione, un altro dispositivo che abbiamo sviluppato è un collare smart per bovini allo stato brado, che ci comunica a real time il benessere di quell'animale. In ultimo vi racconto il prototipo di cartello stradale smart che abbiamo sviluppato in collaborazione con un'azienda Umbra. Quindi un cartello che fino a ieri era semplicemente un pezzo di lamiera, l'abbiamo reso intelligente, cioè abbiamo messo a bordo di quel cartello un'elettronica in grado di comunicare con i veicoli. Addirittura questo prototipo ha fatto sì che il 9 dicembre abbiamo aperto con questa azienda una nuova società, Xcomit. Fontanelli, molto interessante anche il racconto delle idee, dei progetti di Luna Geber, che è poi un spin-off universitario, il legame tra le aziende, l'università, ovviamente la ricerca, e abbiamo visto in questo caso anche con il territorio, perché è dal territorio che nascono le idee. Sì, è fondamentale. Diciamo che naturalmente tutti sappiamo che l'università è una delle fonti principali di innovazione o comunque di invenzione. Non è l'unica. Spesso ci dimentichiamo che, quantomeno nel nostro paese, la ricerca e sviluppo, il volume di investimenti di ricerca e sviluppo maggiori sono in carico naturalmente al settore privato, piuttosto che all'università. Però l'università rappresenta una fonte primaria importante. Questo è un elemento di attenzione, di grande attenzione, al quale dobbiamo riservare particolari procedure di affiancamento ai ricercatori. I ricercatori hanno una loro missione, quella appunto di fare ricerca. Il percorso qui è entrare in affiancamento dei ricercatori, in laboratorio, con loro, aprire i cassetti, cercare di capire se all'interno dei loro cassetti esistono invenzioni che abbiano una propensione di raggiungere il mercato, creare intorno a queste invenzioni un team, e torniamo al ragionamento dell'assessore di Alessandro, un team che abbia le competenze, non solo tecnologiche e scientifiche, ma anche di mercato, e così via, per poter trasferire questa invenzione verso appunto gli utenti finali e il mercato stesso. Quindi eccellente il rapporto che c'è con l'università e con i centri di eccellenza universitari, perché è da loro che noi otteniamo il flusso, quello che chiamiamo il deal flow delle invenzioni, che poi cerchiamo di portare sul mercato. Allora, ora vorrevo farvi conoscere, lo conoscerete sicuramente, però c'è un'altra esperienza interessante, di un altro perugino che si è fatto strada nel mondo dell'innovazione, nel mondo dell'azienda. Sto parlando di Carlo Battistelli, che è responsabile Europa dell'acquisizione clienti di Amazon Web Services, che ci racconta appunto gli ambiti più promettenti e come Amazon si interfaccia e che rapporti ha una grande multinazionale come Amazon con le start-up. Guardiamo insieme. Sono qui oggi per parlarvi di due argomenti principali. Il primo è il rapporto che Amazon ha ad oggi con le start-up. Il secondo sono i maggiori trend tecnologici che vediamo nel mercato e come Amazon e le start-up stesse si possano relazionare a questi trend. Per quanto riguarda il primo punto, Amazon ha con le start-up in generale un rapporto che possiamo definire simbiotico, nel senso che noi viviamo grazie alle start-up e le start-up si sviluppano e crescono grazie a noi. Come la maggior parte delle persone sa, AWS fornisce l'infrastruttura tecnologica a livello di cloud computing necessaria per tantissime start-up per iniziare la loro attività in qualunque settore esse abbiano effettivamente scelto di iniziare questa attività e lo facciamo facendo uno scouting iniziale di quali sono i progetti che a un orizzonte temporale di 5 anni possono avere la maggiore probabilità di riuscita in termini di sviluppo economico e anche di internazionalizzazione. I progetti che vediamo funzionare di più a livello di macro trend sono sicuramente quelli legati al mondo della blockchain, al mondo della intelligenza artificiale e alcuni progetti che stanno andando molto 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 bene sono quelli relativi allo streaming, sia di video che di eventi ovviamente accelerati dalla pandemia globale che ha mutuato e traslato moltissimi eventi che prima erano offline in una modalità di fruizione online fino ad arrivare a quelli che sono alcuni eventi ad realtà aumentata. Quindi augmented reality e virtual reality sono altri due grandi trend dove le start up stanno insistendo moltissimo ed Amazon con loro. I grandi macro trend sono questi. Le start up oggi devono necessariamente focalizzarsi su questi per essere di successo nel futuro. tema che oggi viene un po' non trattato almeno a livello pubblico perché è spesso una cosa da back-end dove non ha un grande impatto sul cliente finale ma che è in realtà di un'importanza incredibile è il tema della cyber security. Quindi la parte di sicurezza del dato che è quello per cui oggi le soluzioni cloud insieme a tanti altri vantaggi però è sicuramente una delle motivazioni per cui le soluzioni cloud sono preferite a soluzioni on-premise cioè a data center che sono locali è perché il dato riesce ad essere securizzato in una maniera assolutamente importante. Quindi tutto questo mondo della cyber sicurezza è assolutamente in crescita e questo perché le infrastrutture e i servizi correlati alle transazioni online allo spostamento dei nostri dati online stanno crescendo in tutti i settori dalla pubblica amministrazione alle aziende private e quindi c'è sempre più necessità di riuscire a conservare il dato in una maniera retrievable cioè accessibile nel minor tempo possibile ma anche in maniera sicura. Alle start-up consiglio vivamente di focalizzarsi su questi temi perché da qui al 2050 tutti i grandi independent information provider come per esempio Garner che è uno dei independent provider di informazioni circa ai trend della tecnologia maggiori al mondo parlano di uno spostamento anche in area lavoro di queste categorie che ripeto sono essenzialmente realtà aumentata video streaming intelligenza artificiale blockchain e cyber sicurezza di un circa 20-30% del mercato lavoro globale che attualmente invece ricopre una share una quota del meno del 5% quindi avremo una grandissima migrazione anche delle competenze da un punto di vista di mercato del lavoro richieste e le università ovviamente devono tenere il passo con questa ricerca e innovazione per offrire agli studenti un pacchetto di corsi di lauree eccetera che riflettano queste nuove competenze che saranno sempre più richieste nel mercato Amazon come altri player in questo universo si sta già muovendo creando dei veri e propri poli di studio Davvero molto interessante quanto ci diceva Battistelli quindi ci ha sottolineato quelli che sono i trend importanti insomma quello a cui le start up scusate devono guardare proprio per intercettare il bisogno del mercato e quindi insomma li ripeto sono cyber sicurezza la realtà aumentata il block chain insomma andiamo verso un universo assolutamente allargato e proprio questo termine universo mi porta a farvi a volervi far vedere un video di un'altra start up Umbra che si chiama proprio Multiverso adesso vediamo di che cosa si tratta sono Gianluca Perissinotto l'amministratore della società Multiverso società che si occupa principalmente nelle applicazioni verso Industria 4.0 e il nostro nome deriva appunto è un omaggio al sociologo Umberto Maturana che definisce il Multiverso un insieme di molteplici prospettive che si generano mentre la società si evolve quindi non c'era termine più adatto per definire un po' secondo noi la nostra attività che si rivolge personalmente a fornire strumenti alle risorse umane per migliorare i processi per migliorare le prestazioni a livello professionale nell'ambito appunto delle applicazioni informatiche che possono servire a migliorare sia le conoscenze ma anche i processi che riguardano gli aspetti di manutenzione e di montaggio di componenti tre settori sono quelli principali che possiamo diciamo enunciare all'interno della nostra struttura che sono quello del digital assessment che serve per valutare le competenze e definire i KPI quindi gli indicatori di performance all'interno di un'azienda che coadiuato anche con sistemi di e-learning e di mobile learning danno alle grandi aziende e alle società la possibilità di formare il personale con nuove strategie di formazione e con strumenti del tutto innovativi l'altra parte che Multiverse ha sviluppato nell'ultimo periodo sono i sistemi di realtà aumentata e di realtà virtuale applicati ai processi produttivi e alla sicurezza sul lavoro per quanto riguarda la realtà virtuale abbiamo sviluppato dei sistemi per alcune major in cui attraverso la simulazione di contesti tridimensionali che rievocano e riproducono fedelmente dei contesti lavorativi gli utenti possono simulare operazioni che mettono a rischio la loro persona e il loro operato e attraverso questi sistemi di simulazione verificano appunto i rischi a cui possono incorrere altro sistema molto importante è quello che stiamo sviluppando e siamo in fase prototipale stiamo generando andando verso il prodotto finale un prodotto di realtà aumentata che serve per la manutenzione di vari sistemi può essere applicato in diversi settori in cui è necessita la manutenzione in cui praticamente un operatore da sul campo che indossa un occhialino di realtà aumentata fa vedere a un assistente in remoto su quale sistema sta operando così che l'assistente da remoto può aiutarlo nella manutenzione di quel sistema fornendogli informazioni mettendo a vita il layout dei manuali per l'assistenza e dall'altra parte l'assistente sul campo può fornire immediatamente magari il componente che in quel momento è rotto dandogli i numeri di matricola o numeri di serie per magari procedere direttamente all'ordine quindi diciamo sviluppiamo sistemi per facilitare la vita diciamo agli utenti agli operatori sul campo perché le tecnologie servono quando secondo me sono funzionali a migliorare la vita specialmente nei processi aziendali e quindi realtà aumentata le start up a servizio anche della sicurezza sul lavoro prima parlavamo dell'università come proprio fucina di talenti e di idee innovative in Italia una delle università che hanno diciamo portato più avanti il discorso proprio a livello scientifico delle start up è stata sicuramente l'università Sant'Anna di Pisa quindi io vorrei lasciare proprio all'assessore Fioroni la presentazione del nostro prossimo video insomma anche per una questione diciamo affettiva Riccardo Varalda il professore merito del Sant'Anna Riccardo Varalda è stato anche un mio maestro è stato il primo che in Italia ha terrorizzato gli ecosistemi delle innovazioni e proprio Sant'Anna è stata tra le prime università che in Italia ha dato vita agli spin off universitari quando fare degli spin off che già in America era una pratica ben consumata era quasi considerato immorale quindi è stato un innovatore lui si deve un po' al miracolo di quello che oggi in Italia è uno dei centri di innovazione d'eccellenza su alcuni temi vedi la robotica quindi lancio il prof con tutto quel rispetto che gli allievi devono ai grandi maestri vediamo noi siamo al settimo posto nel graduatore mondiale in fatto di produttività scientifiche vuol dire che possiamo vantare la presenza in Italia dei ricercatori di first class purtroppo se andiamo a vedere poi il patent application cioè la capacità di registrare brevetti noi scendiamo al ventitresimo posto qui mi pare di capire che nessuno è attento al fatto che con la ricerca si fanno soldi anche le stesse università le università americane attraverso la ricerca fanno soldi sia con la cessione della royalty della licenza di sfruttamento di brevetti sia anche con la nascita di statale quindi da questo punto di vista io sono ben lieto se aumento gli investimenti in ricerca e questa è la perorazione unica che sanno fare in Italia gli ambienti della ricerca i miei amici professori anch'io sono professore ma professore un po' particolare però se noi non impariamo a valorizzare a sfruttare a tirar fuori i soldi dagli investimenti in ricerca e quindi un contributo deciso all'innovazione tecnologica siamo assolutamente perdenti non serve assolutamente nulla facciamo pochi investimenti in ricerca ma facciamo ancora meno trasferimento tecnologico quindi meno innovazione tecnologica meno capacità di far generare deep tech startup stiamo assistendo nel mondo abbiamo assistito quest'anno nel mondo ad uno straordinario eccezionale aumento degli investimenti in venture capital tenete presente che è stata superata per la prima volta in un solo trimestre nel primo trimestre del 2021 la solida i 100 miliardi di dollari di investimenti in venture capital con un aumento del 94% rispetto all'anno scorso tenete presente che questi sono dati emblematici del fatto che c'è una corsa alla generazione di startup a base tecnologica le startup hanno avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo rapido dei nuovi vaccini tenete presente che tutti i vaccini che noi abbiamo fatto utilizzato sono frutto di essenzialmente di attività di ricerca di capacità creative di startup che riescano a fare quelle che viene chiamate le strappe invenzione alla sciumpetta cioè sono in grado di fare cose che le grandi imprese non sono in grado di fare poi quando hanno fatto il loro compito trasmettono i loro prodotti alle grandi imprese per la produzione su vasta scala e in commercializzazione del mondo